Purtroppo ieri sera, intorno a mezzanotte, si è consumata una tragedia familiare a seguito evidentemente di un violento arterco, un figlio 49enne che conviveva con il proprio padre, 82enne, lo ha colpito violentemente con diverse coltellate al torace e in diverse altre parti del corpo, tanto da provocarne la morte che è avvenuta intorno alle 4 di stamane nell'ospedale di Teramo. L'intervento dei carabinieri è seguito alla telefonata dell'omicida, il quale ha chiamato il 118 e ha chiesto che si intervenisse perché andassimo a prenderlo e perché aveva poco prima ucciso il proprio genitore. Sulle motivazioni sono in corso degli approfondimenti. Il dato oggettivo è che non ci risultano pregresse denunce né siamo mai intervenuti per pregresse episodi di violenza nell'ambito familiare. Il nucleo familiare era composto dal padre, 82enne, dal figlio, 49enne, che stava ancora terminando il proprio percorso universitario.